Benvenute e benvenuti al secondo concerto appuntamento musicale di Vincero TV, qui su questa nostra emittente e sul web, sul nostro circuito internet. Come dicevamo nella presentazione del concerto della scorsa settimana, quest'anno con la nostra operazione editoriale vogliamo concentrati molto sulle realtà che operano nel campo della formazione e della didattica. Già la scorsa settimana abbiamo avuto modo di incontrare la realtà dell'Accademia Suzuki che ci ha proposto un primo bellissimo concerto con un ensemble molto grande, l'avrete visto, importante pur realizzato da musicisti molto, molto giovani. Il progetto Insieme Distanti è un progetto che chiaramente è inserito ancora nel nostro tempo caratterizzato dalla pandemia e quindi dalla difficoltà ancora delle relazioni che vengono purtroppo separate, spezzate e che la musica riesce a legare nuovamente insieme. Vi proponiamo quindi molto volentieri ancora per questo concerto un momento musicale realizzato sempre dai musicisti che fanno parte dell'Accademia Suzuki e un altro gruppo musicale che si presenta in questo appuntamento concertistico. L'augurio che vi facciamo è di passare con noi questo momento musicale che vi riempia il cuore di gioia e che ci stimoli a riprendere non solo le attività culturali ma anche la nostra voglia di intessere nuovamente relazioni interpersonali, perché no anche aiutate e sostenute dalla bella musica. A tutti voi buon concerto. Grazie. 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 Grazie.